Quell'anno facevamo il terzo tecnico commerciale con i miei compagni di classe con i quali e con molti dei quali già avevano iniziato insieme. Il primo anno si era creato un bel rapporto, un bel feeling, una fratellanza diciamo. Ma c'era una mia compagna in particolare, Lina, che già dal primo anno sedeva sempre accanto a me con la quale se l'ha creata anche un pochino di confidenza come tra un fratello e una sorella. Il professore di tecnica che arrivò quell'anno da noi diceva spesso, ripeteva spesso che Lina sta adesso come la regola alla nave perché era sempre attaccata, sempre attaccata a mio braccio per esempio quando andavamo in corridoio a prendere il paninello, a comprare il paninello dalla bidella. E non perdevo occasione però di prenderlo in giro. Intanto perché io ero un paio di anni più grande di loro perché avevo perso alcuni anni per la malattia tra le elementari e le medie e poi un po' perché forse un po' più imbranato lo ero, forse lo sono ancora, lo ero sicuramente. Per cui io ero l'obiettivo dei suoi continui scherzi, me ne combinava di tutti i colori. Però era fondamentalmente ingenua, aperta, leale, sincera, ma ingenua per cui se capitava, quella volta che capitava di ricambiare lo scherzo, lo scherzo che io le preparavo era clamoroso, ne racconterò alcuni. Ma oggi voglio raccontare di quella volta in cui ci mandarono tutti e due fuori a causa di una battuta che a me venne fuori improvviso spontanea ad un gesto di lina e che ci costò un'annotazione sul registro a tutti e due. E peraltro eravamo molto bravi, eravamo i secchioni della classe, quindi a noi le note davano fastidio. Cioè il ruoto in condotta era pessimo e questo andava bene. Eravamo concentrati. Quel giorno lei si era seduta proprio davanti a me, al banco davanti, accanto a Teresa e dall'altro lato c'era Lianella. Io stavo proprio dietro di lei. Ad un certo punto il professore Ditekinga, che era un tipo tutto particolare, molto severo, non poteva volare o fiatare una mosca che lui la sparava, eravamo lì tutti impauriti, tutti concentrati e ad un certo punto, siccome era in requietà di suo, forse aveva ancora la nonna, ma era molto irrequieta, non riusciva a stare seduta sulla sedia, normalmente come qualunque altra persona, come qualunque altro dei suoi o delle sue compagni. Per cui assumeva le posizioni più strane, più strampalate. Quel giorno decise di sedersi con le ginocchia, sulla sedia e appoggiarsi sul banco, girando la sedia al contrario, la sedia rivolta verso il banco. Probabilmente questa posizione a un certo punto la portò a stancarsi, per cui la venne spontaneo tirarsi indietro e sedersi proprio sul mio banco. Io ero lì appoggiato che seguivo la lezione e mi vidi proprio attaccato al naso il suo, il suo lato mio. Mi venne spontaneo gridare caccia sfugosi il banco. Tutta la classe scoppiò a ridere e noi due ci prendemmo una delle tante e solite note.